amici del TMV News ben ritrovati benvenuti con questa nostra puntata ormai siamo a un passo dalla giornata del Ferragosto ma sono giorni particolarmente caldi particolarmente interessanti soprattutto per quanto riguarda il mercato delle squadre italiane anche perché oltre al Ferragosto siamo a un passo dall'inizio del campionato previsto per sabato 21 agosto e si avvicina anche la fine proprio del calcio mercato lì il gong suonerà il 31 di agosto ma in questa puntata del TMV News particolarmente interessante vi proporremo subito un'apertura un'intervista esclusiva con Walter Mazzari che torna a parlare dopo due anni interrompe il silenzio lo fa ai microfoni il nostro Lorenzo Marucci si toglie anche qualche sassolino dalle scalpe rispetto all'ultima esperienza sulla panchina del Toro ma ci svela anche quelli che sono stati i contatti in questi in questi mesi con altre squadre tutti i contatti però che sono stati rifiutati poi parleremo di attaccanti e non solo con Roberto Pruzzo che va a commentare il passaggio di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter ma anche le prospettive della Roma di Giuseppe Morigno poi faremo un punto sulle neopromosse perché si riaffaccia in Serie A all'Empoli e allora andremo a sentire come si sta muovendo sul mercato la squadra di Aurelio Andreazzoli peraltro lo sta facendo in maniera molto intelligente e poi torna dopo tanti anni invece in Serie A il Venezia che ha dovuto risolvere anche alcuni problemi logistici e ci soffermeremo proprio su questo parliamo in particolar modo dello stadio e poi siamo alla vigilia della partenza i due grandi campionati la Premier League e la Bundesliga andremo a vedere come si presentano le squadre in asse di partenza con Alain Valnegri ma come detto andiamo con ordine perché c'è una grande esclusiva che il nostro TMV News vi vuole proporre e cioè l'intervista con Walter Mazzari rilassato abbronzato ma molto carico è giunto il momento forse per lui di tornare anche su una panchina ma ci racconta tutto in questa nostra esclusiva. Walter Mazzari cosa ti è rimasto dell'ultima esperienza con il Torino e anche guardandolo adesso in prospettiva futura che cosa pensi anche della questione Belotti visto che comunque l'ha allenato potrebbe rimanere potrebbe allungare il suo contratto? Allora sull'ultima cosa non posso rispondere perché come mi ha sentito io sono abituato a parlare di cose dove io sono coinvolto direttamente in questo momento io sono due anni se non sbaglio non sono più a Torino non mi permetto di entrare in questi parametri io mi è rimasto i 63 punti che sono stati secondo me anche col senno del poi quello che abbiamo visto dopo quello è successo dopo un'impressa storica e mi fa piacere che poi il tempo ha restituito quello che era giusto il giusto merito che ho avuto in quell'annata. Hai sottolineato anche il fatto che comunque il Torino era la squadra è stata la squadra che nella classifica del recupero palla nella metà campo avversaria era il primo posto. Questo vuol dire che quello che alcuni vogliono dire perché non guardano le partite che il Torino se era il primo posto nel recupero della palla nella metà campo degli altri vuol dire che faceva un calcio propositivo molto offensivo che la linea la teneva a centro campo più o meno per molto tempo e che era una squadra organizzata a volte ha raccolto un po' meno come dicevo a quei tempi e di quello che faceva vedere la squadra in campo perché mancava un po' di qualità davanti e sbagliavamo troppi gol. Questo ci tengo a precisarlo perché a volte ho sentito tante inesattezze che che basta ora è il momento di di dire le cose come sono state come come stanno. Ecco mister ma quest'estate è stato vicino a tornare su una panchina di Serie A o una panchina magari anche di una squadra estera o di una nazionale oppure no? Allora vi dico la verità ma no perché nomi non ne posso fare ho rifiutato qualcosa perché dico un'altra verità che fino ad ora non ho detto che un tipo come me col covid senza pubblico sinceramente anche le proposte che ho avuto così non avevo avevo perso l'entusiasmo di andare a fare quel calcio che ho visto con il covid io sono un allenatore che deve sentire la sfida deve sentire la causa. Poi ci sono state anche squadre che se permettete ho rifiutato perché io credo di non essere un allenatore che magari in questa fase della mia carriera voglia ritornare a lottare per la salvezza e ho scelto di stare fermo. Qualche cosa pure all'estero e vediamo da ora in poi se come ho detto prima verrà una proposta che a me mi dà carica adrenalina e mi fa ritornare il sangue che scorre nelle vene in un certo modo allora andrò altrimenti non ho problema stare fermo. E c'è un aspetto che ritorna nelle parole di Mazzarri cioè l'emergenza covid che ha tolto l'entusiasmo anche a tanti allenatori che si sono presi insomma quest'anno eh di attesa che si è allungato anche proprio per l'emergenza covid e ricorderete anche su questo aspetto proprio le parole di un altro allenatore che invece è tornato in pista e cioè Maurizio eh Maurizio Sari. Ma tra le nostre esclusive come detto non soltanto Mazzarri perché abbiamo parlato con un grande bomber per tutti rimane sempre il bomber e cioè Roberto Pruzzo che fa il punto e la situazione sul passaggio dalla Roma all'Inter di Giacco peraltro non ancora ufficializzato perché c'è un piccolo intoppo burocratico l'arrivo di un documento ma insomma dopo tre anni eh Giacco riuscirà a vestire la maglia eh dell'Inter soltanto questione di tempo e poi svela anche quelle che sono le sue personalissime attese sulla Roma di di Morigno gettando un po' di eh benzina un po' di acqua sul sul fuoco no? Perché tutto sommato lo stesso Pruzzo dice la Roma non ha la possibilità di investire tanti soldi e dunque non c'è da aspettarsi chissà che cosa ma facciamolo dire direttamente a lui sempre ai microfoni di Lorenzo Marrucci e di eh Nicolò Ceccarino. Bomber Pruzzo, Giacco per sostituire Lukaku come lo vedi? Eh lo vedo bene anche se di Lukaku secondo me è insostituibile e quindi credo che l'Inter abbia fatto la scelta più logica cioè prendere un usato sicuro si usa questo termine di un grande livello che ha 35 anni ma che può ancora dare molto. Ti aspettavi magari eh che potesse arrivare all'Inter magari anche arriverà un giocatore di maggiori prospettive per quanto riguarda l'attacco? Eh ma sai prospettive l'Inter in questo momento ha bisogno di certezze perché deve difendere lo Scudetto e essere pronta a giocarsi la la Champions quindi prospettiva ok però qui hai bisogno di uno che ti dia delle garanzie e secondo me Giacco te le dà. Per la Roma che perdita è quella di Giacco? Sei due due o tre anni che cerca di di liberarsene tra virgolette o che lui cerca di 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 trovare una soluzione diversa. Credo che sia giunto il momento giusto. È chiaro che che la Roma con delle ambizioni con un allenatore del livello De Mourinho deve trovare un calciatore che sia che sia in grado di 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 sostituirlo o più di uno cercando di crescere e abbassando un monte stipendi che è la cosa più complicata che ci sia. In questo caso servirà un giocatore più giovane oppure andresti su un usato sicuro? L'usato sicuro ce l'avevi. Credo che sia opportuno cambiare cambiare strategia. Cercare di avere nel giro di due o tre anni una squadra forte molto forte in grado di competere almeno per il quarto posto. Sembra anche poco eh. Devo dire che credo che che se sentono i tifosi da Roma non sono contenti perché l'obiettivo deve essere quello di vincere assolutamente. Shomurudov per l'attacco come lo giudichi. Eh questa è un'altra di quelle situazioni che che bisogna verificare sul campo e un po' di incognita c'è no? Perché uno fa subito i conti degli anni che ha e di quello che ha fatto nella sua carriera finora. Però credo che ci sia un enorme potenziale e questa è la garanzia che deve che deve dare a Mourinho l'idea di poter tirare fuori il meglio di 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 questo calciatore. Però ti aspettavi che con l'arrivo di Mourinho la Roma fosse in grado di arrivare a dei giocatori più importanti rispetto a quanto non ha fatto fino a questo momento? Eh sinceramente no. No perché perché i costi ormai sono sono ingestibili. Ci sono due tre società quattro cinque in Europa che si possono permettere più o meno qualsiasi tipo da di acquisto e altri che 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 non sono in grado di farlo. Quindi la Roma in questo momento deve assolutamente abbassare molto in grado. C'è chi lotterà per lo scudetto, c'è chi lotterà per il posto in Champions League, c'è chi lotterà per un piazzamento Europa League e poi c'è chi lotterà invece per mantenere la categoria. Ci è abituato a farlo l'Empoli, squadra che negli ultimi anni ha fatto una sorta di ascensore di elastico tra la Serie A e la Serie B ma stiamo parlando di una delle società più importanti comunque del nostro calcio anche per quanto riguarda il lancio di tanti giovani negli ultimi anni. È un piacere dunque riaccogliere nella massima categoria l'Empoli che peraltro si sta muovendo sul mercato in maniera molto intelligente, molto funzionale, non soltanto Patrick Cutrone che è una grande chance per rilanciarsi anche nel nostro campionato, nella nella Serie A dopo alcune esperienze non particolarmente positive all'estero e dopo l'esperienza alla Fiorentina ma il mercato dell'Empoli probabilmente non si ferma qua, ce ne parla il nostro modulo che ha permesso anche lo scorso anno di vincere il campionato in Serie B, 3-5-2 invece è il modulo che ha visto come protagonista lo stesso Andrea Azzoli nell'ultimo anno qui in Azzurro. Si è smosso qualcosa anche sul fronte mercato dopo l'arrivo di Liam Henderson da Lecce, ieri è arrivata questa notizia a sorpresa dell'arrivo di Patrick Cutrone da Wolverhampton, un acquisto fortemente voluto dal DS Accardi che ha lavorato sotto traccia per assicurarsi questo attaccante che proviene sì da stagioni non felicissime ma che l'Empoli può fare davvero molto bene. Cade o no non si sa ancora la candidatura di Pinamonti, c'è da risolvere sempre il nodo ingaggio, l'Empoli è disposto ad arrivare a una certa soglia poi a quel punto dovrà essere il giocatore e la stessa Inter a partecipare eventualmente alla differenza. Quindi si muove qualcosa anche negli altri reparti, vedremo se nelle prossime ore ci saranno altre ufficialità da parte della Società Azzurra che è molto vicina anche ad una cessione, quella di Moreo praticamente fatta per l'attaccante ex Palermo l'arrivo, l'approdo al Brescia. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità. E proseguiamo sul filone del neopromosso perché come detto l'Empoli negli ultimi anni si è affacciato diverse volte alla Serie A, manca dalla massima categoria invece da tantissimi anni il Venezia che torna dunque a portare un marchio importante, quella della città veneziana in Serie A, un bellissimo spot anche per tutto il nostro movimento del calcio. Venezia che però oltre alle questioni di mercato ha dovuto risolvere anche tutta una serie di problematiche logistiche. Intanto per trovare l'omologazione dello stadio il vecchio Penzo che si trova sull'isola di Sant'Elena e poi lo stesso centro sportivo. Problemi che sono stati risolti e allora andiamo a scoprire come con il corrispondente da Venezia Alberto Verison. Con lo stadio tutto a posto nel senso che non ci sono ritardi, al momento tutte le infrastrutture a cui il club sta mettendo mano non stanno riscontrando ritardi e attualmente sono già stati terminati l'impianto delle luci che è un impianto delle luci da 1600 lux quindi valido per le gare di Serie A e quindi tutto a posto è stato rifatto il manto erboso del campo dello stadio Penzo su indicazioni della Lega. Non era un lavoro in previsione ma poi la Lega ha chiesto di rifare il campo e quindi il Venezia ha dovuto rifare anche il campo. Passiamo poi al centro sportivo dove il Venezia ha già ultimato i lavori che riguardano la parte sportiva perché sono stati rifatti gli spogliatoi utilizzati dalla prima squadra e il campo in sintetico dove la prima squadra si allena. Mentre da settembre come ci ha detto Andrea Cardinaletti che è le responsabili delle infrastrutture del Venezia dovrebbero partire i lavori della sede amministrativa quindi a tutti gli effetti il tagliercio diventerà la nuova casa del Venezia sia come amministrazione che come settore sportivo. Non c'è soltanto però la Serie A ai nassi di partenza perché in questo fine settimana la Serie A che vi ricordo parte il prossimo fine settimana non questo ma fra dieci giorni invece in questo fine settimana partono due grandi campionati quello che al momento viene definito il miglior campionato in assoluto a livello mondiale cioè la Premier League Premier League che si è ulteriormente arricchita di grandi giocatori uno su tutto ovviamente Romelu Lukaku il Chelsea parte come grande favorita per la Premier League dopo aver conquistato il titolo di campione d'Europa con la Champions e aver vinto anche la Supercoppa Europea ma anche qua non mancano le sorprese invece sembra già delineato ma attenzione ovviamente a quello che sarà poi lo sviluppo dello stesso campionato la Bundesliga con il Bayern Monaco a favoritissimo ma non solo e allora facciamo il punto con il corrispondente di Bayern Sport a Neval Negri. Il team che secondo me ha fatto un mercato molto coerente ha speso molto bene i suoi soldi è andato comunque a prendere dei giocatori in ruoli dove aveva bisogno la squadra di Solskjaer ha confermato comunque tutti i titolari e mi aspetto qualcosa in più rispetto all'anno scorso e mi aspetto tanto del Chelsea adesso la gran domanda è di sapere se il Chelsea può trovare quella costanza per poter lottare per la Premier perché ormai Tuchel di Coppe ne ha vinte e anche troppe forse rispetto alle aspettative al suo arrivo e poi in Bundesliga ormai sappiamo che un monologo del Bayern. Le due anti Bayern potrebbero essere Dortmund e Leipzig come sempre ma il Leipzig sta facendo fatica a compiere l'ultimo step per convertirsi nel vero anti Bayern. In cambio il Dortmund è una delle squadre che mi dà più curiosità quest'anno perché Marco Ros lo seguo dalla primavera del Salzburg e mi sembra un allenatore brillante. Poi per il calcio di Dortmund la filosofia che hanno nella Rur è perfetto. E con questa bella carrellata sui due campionati che stanno per partire siamo giunti al termine di questa edizione del nostro TMV News. Io vi ringrazio per la gentile e cortese attenzione e ovviamente a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana e in particolar modo di un buon Ferragosto. Da Alessandro Santarelli grazie a tutti e alle prossime occasioni. Grazie a tutti.